Armato di coltello, ha tentato di rapinare due locali di Monza nel giro di pochi giorni. La polizia di Stato ha arrestato un 55enne italiano. Le volanti sono intervenute lunedì, poco dopo le 14 in via Carlo Cattaneo, all'altezza del distributore Esso. Segnalata la presenza di un uomo che poco prima aveva provato il colpo in un bar-ristorante di via Vittorio Veneto. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti sono riusciti a bloccare l'individuo che corrispondeva alla descrizione fornita da un dipendente del locale. Il 55enne, dopo aver pranzato al ristorante, è andato alla cassa, ma al posto di pagare ha minacciato la cassiera intimandole di consegnargli 150 euro, altrimenti avrebbe compiuto una strage. Intanto metteva la mano in una busta della spesa col chiaro intento di impugnare un'arma. I pendenti hanno allertato la questura. Il rapinatore ha deciso di desistere dal suo intento scappando a piedi prima di essere bloccato dagli agenti. L'uomo, un italiano residente a Monza, ma di fatto senza fissa dimora con alcuni precedenti, è stato trovato dai poliziotti con in mano un coltello da 30 centimetri. È stato convinto, dopo vari tentativi, a deporre l'arma e a non commettere gesti violenti. Dai successivi accertamenti, il 55enne è stato ritenuto responsabile anche di un altro. L'analogo colpo avvenuto venerdì scorso a Monza, dopo aver appoggiato un coltello su un tavolino dei pressi della cassa, aveva intimato al titolare di un bar di consegnargli l'incasso, poi era fuggito con 50 euro. L'uomo, nei mesi scorsi, in un altro punto ristoro di Monza, aveva estratto una pistola scacciacani senza tappo rosso e poi ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché, diceva, era in procinto di fare una strage. È stato portato nel carcere di Monza con l'accusa di tentata rapina a mano armata. È stato denunciato anche per insolvenza fraudolenta, porto di oggetti atti a offendere in luogo pubblico, oltre che per la precedente rapina.